cari amici questo è l'htc 8x che presto sarò costretto a vendere perché mi è arrivato come vedete è perfettamente nuovissimo perché mi è arrivato il nuovo ativ s eccolo qui il design è spettacolare ho posseduto un galaxy s3 e questo con queste questi bordi così squadrati è molto molto più bello leggero e poi non c'è android quindi già è quanto dire sarà nettamente più veloce in tutto come lo è anche l'htc 8x poco sbloccato presto toglierò le pellicole per ora sono con una mano perché sto filmando davvero davvero un bel telefono qua c'è la comparazione delle dimensioni su per giù le dimensioni sono uguali il telefono è stato acquistato su www wired market punto it presto come vi dicevo farò una recensione e poi venderò il mio htc 8x per il momento è tutto www.noelle75.it